Ciao a tutti, oggi vi mostro come poter realizzare un'accongiatura molto particolare adatta alle occasioni più importanti. Si tratta di un'accongiatura a corsetto, la realizzeremo con dei nodi. Innanzitutto ho separato i due ciuffi frontali dal resto dei capelli che ho suddiviso in tre sezioni e quella centrale l'ho racchiusa in una coda. Cominciamo con prendere una delle due sezioni frontali, la dividiamo in due sezioni e andremo a realizzare un nodo. Adesso faremo passare questa sezione sotto l'altra e la portiamo dall'altro lato. L'altra la possiamo bloccare con un beccuccio d'oca, in questa maniera. E l'altra la andremo a lavorare con l'altra sezione laterale. Le uniamo, le teniamo insieme e prendiamo una sezione dalla testa. in questa maniera. La faremo passare sopra le altre due e andiamo a creare un altro nodo. facendolo passare poi di nuovo sotto, la blocchiamo con un beccuccio d'oca e la andremo a lavorare con l'altra sezione. Grazie. 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 Grazie a tutti. punto prendiamo le due sezioni, le passiamo dietro la coda e le possiamo legare con un elastico. Pettiniamo per eliminare eventuali nodi e questo è il risultato che si ottiene. Spero che vi sia piaciuto e se vi va alla prossima. Ciao!